Un buongiorno, ben svegliati, buon sabato! Sabato 26 maggio siamo pronti per andare a sfogliare i quotidiani, la nostra consueta rassegna stampa, quella di mattino 6, i quotidiani regionali prima e nazionali anche per le principali notizie che trovate sui fogli già in edicola. Ovviamente in questa prima parte spazio alle prime pagine con le notizie della nostra regione ma non solo. Cominciamo con le quattro edizioni del quotidiano Il Centro, questa è l'edizione di Pescara e vedete il titolo è dedicato ovviamente al funerale doppio per Marina Angrilli e Ludovica. Canti e lacrime per madre e figlia, tanti bambini tra la folla commossa per la diva Marina Angrilli e la sua Ludovica. Esegue che si sono svolte ieri pomeriggio e vedete la bara della piccola Ludovica durante i funerali con una bambina che lascia un messaggio proprio sopra la bara di questa sfortunata bambina ed è la sua altrettanto sfortunata mamma. In alto invece questioni che riguardano soprattutto la politica e non solo locale perché la partita del governo non è ancora chiusa, Conte, il premier incaricato, va da Mattarella, Stallo sui ministri e Salvini, leader della Lega, evoca il voto. La questione di rimente è la figura di Paolo Savona, l'economia. In regione il consiglio boccia la mozione di sfiducia per il governatore Luciano D'Alfonso. Per il trasporto locale i sindacati scioperano contro i tagli ai servizi. Nelle cronache, come detto, siamo sull'edizione di Pescara e allora c'è una nuova opera di Toyo Ito che è più costosa del calice che molti ricorderanno. A Montesilvano che fu posta a piazza Salotto e che poi è finita in un magazzino di Pomezia. La spesa sarà di 1,1 milioni di euro. Sempre a Pescara, piano anti-smog mainato, accordo flop tra sei sindaci. A Montesilvano la pineta nel degrado e allarme tra i cittadini. È terminato il campionato e allora le questioni di calcio riguardano soprattutto il mercato, non solo dei giocatori, anche dei dirigenti. Ad esempio, Pescara-Repetto c'è l'accordo triennale per il direttore sportivo. Pettinari votato miglior biancazzurro della stagione, il resto si dice ma con un nuovo contratto. E poi lo seguiremo. Giorgio Repetto e il Pescara sono sempre più vicini. Dopo l'accordo con il tecnico Pilon, la società biancazzurra ha raggiunto l'intesa con il DS per il prolungamento del contratto triennale. Per il ciclismo Froome, Giro d'Italia stacca tutti e si prende il giro. Oggi ci sarà la penultima tappa, altro tappone alpino, la maglia rosa crolla a oltre 38 minuti. L'edizione di Teramo, sempre del quotidiano Il Centro, vediamo quello che cambia in questa prima pagina. Cambia il titolo, ASL con corsi per oltre 50 posti. Entro agosto saranno assunti infermieri della selezione in corso. Nelle cronache uno dei candidati sindaci a Teramo morra per i disabili. Mi faccio denunciare, dice il candidato del centrodestra. A Giulianova, stazione Far West, da oggi polizia a mezzo servizio. A Silvi, rapina con sequestro di persona e scattano due condanne. In basso ad Albadriatica invece è a rischio il carnivale estivo. L'amministrazione uscente ancora non firma le delibere. L'edizione di Chieti Lanciano Vasto, ovviamente non è identico il titolo d'apertura, dedicata alle esequie di Marina Angrilli e della figlia Ludovica, come vedete. E allora passiamo direttamente alle cronache. Chieti, farmacia comunale e scontro sulla vendita. A bomba, le casse forti sono chiuse e la rapina allora frutta solamente 500 euro. A Lanciano, autista della tua preso a pugni appena sceso dall'autobus. Sempre a Lanciano, estate frentana, grande musica. Renzetti dirige le orchestre, spettacoli a Ortona e a Fossa Cesia. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana, che calambia il titolo d'apertura. Il giudice, ecco come agiva Gallese Avezzano. Tutte le accuse allo psichiatra ora indaga anche la ASL. Nelle cronache all'Aquila i cantieri del post-sisma sono i più sicuri in Italia. Resi noti i dati sempre all'Aquila, a Cioni, così il commercio salverà la città dalla crisi. Sul Mona, sede d'esame dell'Ateneo Telematico. Questo accade ovviamente nel San Raffaele di Roma. L'Aquila, convegno sulla patologia, epatite e allarme dei medici. In provincia il 50% dei donatori risulta positivo al virus. Cambiamo quotidiano, andiamo sulle colonne del messaggero, ovviamente edizione abruzzese. Questo è il titolo, così ha preparato la strage. Fausto Filippone chiese a uno studente in affitto di lasciare aperta la porta della camera. Da lì è arrivato sul terrazzo da cui ha scaraventato nel vuoto la moglie Marina Angrilli. E proprio di questo ovviamente è l'argomento della fotonotizia. Una piccola barca sulla bara bianca. Ovviamente c'erano tutti i compagni di scuola della piccola Ludovica all'esequie di ieri pomeriggio. Il dolore e i ricordi per Ludovica e la mamma. All'Aquila, movida violenta, botte nel locale durante il ride. Due ragazzi cattolati dalla polizia dopo l'irruzione in un pub. Colpa dell'alcol. Saliamo in alto per vedere sotto la testata quali sono le notizie. A Lanciano, migrante picchia il conducente del bus che non vuole tornare alla stazione. Per la sanità l'ASL di Pescara ritira il bando. Per la gestione delle ambulanze e poi per lo sport il Pescara in vendita. Mister Pilon in stand by. In sostanziale controtendenza il messaggero rispetto al centro. Qui Pilon in stand by mentre il centro lo dà per fatto. Addirittura qui c'è la notizia del Pescara che sarebbe praticamente in vendita. Falsi certificati. Gallese finisce in carcere. Ovviamente i falsi certificati ad Avezzano. Andiamo in provincia di Teramo. Invece la città quotidiana della provincia. Sbloccati i lavori all'ex ospedaletto. Affidato allo studio di fattibilità sull'immobile di Porta Romana. Finito nell'inchiesta. Castrum a Montorio Alvomano. Concussione. Sentenza in arrivo per il carabiniere. Vediamo altre notizie che riguardano soprattutto le elezioni alle porte. Teramo al voto. La Meloni a Teramo per benedire Giandonato Morra. Dall'altra parte la guerra dei manifesti. Atto secondo contro le donne. Altre notizie. Dopo 28 anni chiude Foodlandia. La storica attività di Piazza San Francesco. Battuta dalla crisi. Altre notizie. Per esempio in regione non passa la sfiducia ad Alfonso. A Roseto. Parco sabotato per un inutile parcheggio. A Tortoreto. Nuova grana sul servizio degli scuolabus. E invece a Giulianova. Tassa di soggiorno di mezzata. Ma solo per le bande musicali. Queste le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Dove ovviamente c'è ampio spazio per la formazione del nuovo governo. Soprattutto per i totoministri. Anzi. Con particolare focus sul Ministero dell'Economia. Che sta diventando centrale per la formazione dell'intero esecutivo. Perché? E vediamo Repubblica. Paolo Savona ha bocciato l'ira di Salvini. Visco a Conte. Rigore o si rischia il Colle. Il Quirinale. Dice no al Ministro. La Lega via il veto. O le elezioni. Lo spread a 200. Addirittura ha superato 200. Moody's, società di rating, dice potremmo retrocedere l'Italia. L'editoriale di Ezio Mauro, l'uomo qualunque. E poi, altra analisi di Claudio Tito, la trincea di Banch'Italia. Lo scandalo di Hollywood. Weinstein, la fine in manette. E la prima vittoria delle donne. E' finito in manette l'uomo accusato di abusi sessuali. Corriere della Sera. Ovviamente il titolo, il tema centrale non cambia. Governo Salvini pronto a rompere. Conte va al Colle ma nessun passo avanti sul nome di Savona. Lo spread sfonda quota a 200 punti. E c'è anche l'avvertimento di Moody's. Il leader leghista si sfoga su Facebook. Sono davvero arrabbiato. E Di Maio gli mette anche un like. Dalla lista dei ministri salta il grillino spadafora. Altre notizie. Questa che riguarda il ciclismo. Questa bella, bellissima immagine di Christopher Froome. Fuga di 80 chilometri. Froome è leggenda. E va a prendersi il Giro d'Italia con un'azione partita sul Colle delle Finestre. Quando mancavano più di 80 chilometri per l'arrivo a Bardonecchia. Davvero un'impresa d'altri tempi. Quello del Keniano Bianco del Team Sky. Vedremo se oggi ci sarà la risposta di Tom Dumoulin. La stampa. Mattarella in trincea. Lo scontro su Savona fa slittare. Il governo spreada quota 200. Moody's ora l'Italia rischia il declassamento. E l'analisi di Marco De Aglio. Polemiche o no? L'UE va cambiata. Rose. Qui siamo negli Stati Uniti. La vendetta della prima vittima. Predatore riferito a Weinstein. Ti abbiamo preso. Anche qui il Giro d'Italia. La fuga da pazzi di Froome ribalta il Giro. E arriva in rosa a Bardonecchia. Oggi si arriva sul Cervigna. Il messaggero edizione nazionale. Stop a Savona. Salvini insorge. Conte da Mattarella non ce l'ok. Sul Tesoro. Il leader leghista arrabbiato pronto a rompere. Lo spreada quota 216. Lo spiega e l'accusa Draghi. Moody's il rating dell'Italia. E sotto osservazione. Altre nei box. Vediamo gli sviluppi ovviamente. La trattativa. Il muro del colle. Lo spettro del ritorno al voto. I primi e purati cadono le teste. Per la faida 5 stelle. Lavoro e sviluppo. Il super ministero antidisoccupazione. Dovrebbero fondersi. Lavoro e sviluppo economico. E dovrebbe andare proprio. Ammesso che il governo riesca a partire. Al leader dei 5 stelle. Luigi Di Maio. Vedremo se poi sarà così. La fotonotizia. Weinstein. 10 milioni per restare libero. Il produttore fermato. Per stupro. E rilasciato. Dopo aver pagato. La cauzione di 10 milioni di dollari. Pensate. Anche se adesso dovrà andare in giro. Con il braccialetto elettronico. Il delitto della ragazza. I radio neofascisti. Le altre verità di Izzo. Il mostro del Circeo. Rivela alcuni omicidi commessi. Da ex camerati. In chiesta a Roma. Questo riguarda la morte. Di Rossella Corazzin. Una ragazza friulana. Che scomparve negli anni 70. Crisi anche in Spagna. Per la questione corruzione. Rajoy nell'angolo. La Spagna va verso il voto. Ciudadanos non appoggia più il PP. E dunque ci potrebbe essere il rischio urne. Anche in Spagna. Il Tempo. Il titolo abbastanza emblematico. Ma va a fancrucco. I soliti tedeschi. Terrorizzati da un governo. Su cui finalmente non possono interferire. Ci fanno la morale. Con razzismo anti Italia. Pezzenti e scrocconi. Pensino ai loro guai. E poi queste le presunte. Ovviamente non sono però presunte. Motto dei due leader che stanno cercando di formare il nuovo governo. Avanti Savona. O salta tutto. Ovviamente il nome di Paolo Savona. E' quello che su cui cercano di tenere. Soprattutto il leader della Lega Salvini. Ovviamente sul tempo spazio alla cronaca romana. Ecco a voi il mitico campo Rom. Testaccio nello storico terreno di gioco della Roma. Oggi c'è una discarica a cielo aperto. Dove vivono nomadi e barboni. Il fatto quotidiano. L'uomo del colle. E non l'uomo del monte. Ha detto no. Salvini e Di Maio. Amuso duro. Governo in bilico. Ultimatum di Mattarella a Conte. Niente Savona al tesoro. In alto. L'orco Weinstein. Ora avrà il braccialetto elettronico. Basterà? E poi il rider. Gli incidenti nascosti. Rischiamo di dover pagare noi. Gli invisibili delle consegne. Colpa del cottimo. E ieri c'è stata anche la protesta per il Giro d'Italia. Frum solo al comando. Doma il giro. E anche i nemici. Libero. O Savona o morte. Se il professore non sarà ministro salterà il governo. Salvini non arretra. Pretende che al docente euroscettico sia affidato il dicastero economico. In caso contrario la Lega è pronta a ritirare la propria delegazione. E addio esecutivo. Gentiloni nella fotonotizia cambia lavoro. Fa il gufo. Lascia Palazzo Chigi e Portaiella. Rischiamo di finire fuori strada. E poi un'altra analisi. Quelli che difendono Euro e UE sono dei fifoni. Anche con Trump si pensava ad un disastro. Invece è stato un trionfo. L'avvenire. Messaggi al governo. Conte sale al colle ma il nodo rimane Savona. Mattarella non muta linea. Salvini arrabbiato. Mercati in tempesta. Lo spread a quota 200. Medi internazionali in allarme. Sale la tensione. Lega Quirinale. E slitta la scelta dei ministri. Altri box. Il caso aperto. Mosse e rischi sulla poltrona dell'economia. Gentiloni salute avverte. L'ora degli addi. La fotonotizia. Adozioni. Il mondo chiude. L'Italia ha ancora un cuore. Dal 2004 l'80% in meno dei bambini ha trovato casa all'estero. Evidentemente in Italia. Per fortuna siamo in controtendenza. Il manifesto. Lista bloccata. Sale la tensione sulla formazione del nuovo governo. L'ora di colloquio tra Mattarella e Conte non scioglie il nodo. Non il solo. Del ministero dell'economia. Contro Savona intervengono i mercati. Lo spread sale a 217. E il professore conferma. Ci sono dei veti. Contro di me. Per Rajoy siamo in Spagna. Mozione di sfiducia del PSOE. Il partito socialista. Spagna sentenze e corruzione mettono in crisi il governo dei popolari. in basso in Veneto. La consulta boccia la legge sugli asili nido. Il mattino. Anche qui stop a Savona. L'ira di Salvini. Conte sale al Quirinale senza la lista dei ministri. Lo spread schizza fino a 215. La trattativa per il governo è in salita. Il premier media. Ma i tempi si allungano. E Macron dice rispetto l'Italia. Il punto di Bruno Vespo. La scelta del prof. Non è una mossa anti-euro. La verità. Il colle fa muro su Savona. Qui rischia di saltare tutto. Il recatto di Bruxelles. Scontro totale sul Ministero dell'Economia. Conte prova a convincere Mattarella. Ma lui è irremovibile. L'UE non vuole il professore a via 20 settembre. Per Salvini però. Così non si fa il governo. E dice. Ora sono arrabbiato. La fotonotizia. Gli strani viaggi di Renzi. Dopo il Qatar. Il Kazakistan. Lo spread sfonda quota 200. Proprio come con Gentiloni. E poi la casa. Prima gli italiani. Fuori legge. La consulta boccia la norma regionale della Liguria. Respinta pure quella veneta. Sugli asili. Il sole 24 ore. L'instabilità scuote i mercati. Lo spread vola a quota 215. Rischio politico. Riscattati 380 milioni dai fondi azionari. Euro ai minimi da novembre. Timori per la crescita frenata sul dollaro. Scivola a 1,16. Incognita sulla fine del quantitative easing. Il nuovo governo. Alta tensione. Scontro su Savona. Mattarella non arretra. Torna l'ipotesi del voto. Questi i quotidiani italiani generalisti. Andiamo su quelli sportivi. Partiamo dalla gazzetta dello sport. La cui apertura è abbastanza emblematica. Vrom. Fromm. Impresa leggendaria. Scatta sul colle delle finestre. E va in fuga per 80 chilometri. E in rosa. Oggi a Cervigna. Il verdetto definitivo crolla. Yates. Dumoulin resiste secondo a 40 secondi. Il commento di Pier Bergonzi è più amato perché sognatore Steve Jobs si invitava a rimanere affamati e un po' folli. Requisiti base per sognatori geniali. Fromm lo è stato e il suo azzardo ai confini con la pazzia trasforma la foto dell'arrivo sullo Jafferot in una cartolina spedita alla leggenda del Giro d'Italia. Davvero una grandissima impresa. Quella di Christopher Fromm. Poi per il calcio. Sarri-Celsi. Oh yes. C'è l'accordo. Ora il nodo è la clausola del Napoli. Dunque tra poco l'ex tecnico del Napoli ma anche del Pescara potrebbe firmare per Roman Abramovic. Firma vicina. Conte verso l'esonero. Tornerà invece sul mercato. Trattativa di 7 ore a Londra. Tra gli agenti del tecnico e i blues. Nella lista dei desideri di Ancelotti a Napoli. Anche Rabiot e Renato Sanchez. Ma oggi anche l'ultimo atto di Champions League tra Ronaldo e il Tris. Ci sono Klopp e Salah. Alle 20.45 a Kiev c'è la finale di Champions League. Tra il Real Madrid di Cristiano Ronaldo e il Liverpool di Mohamed Salah. Classe contro velocità. L'analisi di Arrigo Sacchi. Calcio invece di casa nostra. Milan fuori dalle coppe. Filtra pessimismo sulla decisione UEFA. Fassone. Se è così acquisti saranno ridotti. E poi le strategie di due big. Juve, Martial e Darmian nell'asse con lo United. Martinez, Inter, il top. Il Corriere dello Sport. Champions mondiale. Zidane cerca la terza coppa. Klopp vuole fare la storia. CR7 e Salah si giocano anche il pallone d'oro. E sono 22 i giocatori che giocheranno questa sera. Che andranno in Russia. In alto, offerta clamorosa, anzi shock, per Douglas Costa. Clamoroso Murigno. Già pronti 85 milioni per strappare il brasiliano la Juve e portarlo al Manchester United. Vedremo se il club bianco-nero, come si legge in alto, resisterà. Alle avance dei Red Devils di spalla. A tu per tu di Walter Veltroni, Gianni Motta. Il ciclismo è sempre meraviglioso perché Froome ribalta il giro con una fuga da leggenda. Nei box, Mercato Azzurro. Quanta Italia cambia maglia da Balotelli a Donnarumma. In 20 cercano squadra. L'Under 21 ieri. K.O. contro il Portogallo. In Serie B Bari penalizzato. Due punti pesanti. Giocherà il play-off sempre con il Cittadella, ma stavolta avrà il campo invertito. Ovviamente giocherà con il ritorno fuori casa. Formula 1 a Monte Carlo. Ferrari ai ripari. Motori nuovi. Unità cambiate su Haas e Sauber. Vettel-Rischia alle 15. Si decide la griglia di partenza. Chiudiamo con tutto sport. Effetto Sarri. In che cosa? Nel probabile accordo Higuain-Celsea. I piani inglesi e l'ex tecnico del Napoli sconvolgono il mercato. Sarri vuole portare a Londra il Pipita e Coulibaly. In questo caso la Juve rilancia per Morata e stringe per Pogba con lo United. De Laurenti si risponde regalando David Luiz ad Ancelotti. Vedete Morata-Juve, Coulibaly-Celsea. David Luiz-Napoli. Potrebbero essere tre effetti di mercato. Dall'altra parte Frummi-Rosa-Bardonecchia. Fuga da leggenda. E poi per l'Udinese. Ciao Tudor. L'obiettivo è Prandelli. Fassone-Milan più forte. Dilemma-Donna-Rumma. Dice l'UEFA. Non ci condizionerà. E infine la finale di Champions. Assalto Liverpool. A quella che è una vera e propria dittatura del Real Madrid. La prima parte finisce qui. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate il canale. Poi entreremo all'interno dei quotidiani. Vediamo. Tra poco. Seconda parte di Mattino 6. Che apriamo, come vedete, entrando all'interno dei quotidiani abruzzesi. Ripartiamo dunque con il centro e con le questioni che riguardano la mobilità. Trasporto locale. Leggiamo. Sciopero contro i tagli. Fit, Cisle, Will, Faiza, Cisle. Chiedono di definire subito il regolamento dei servizi minimi. La CGL. Bassa adesione. È stato un flop. In basso. Vertenza sistema. Lune di vertice in regione per salvare i posti. La decisione dopo la risoluzione consigliare. Andiamo avanti. A pagina 3. Consiglio regionale. Non passa la sfiducia. Bocciata 15 a 10. La mozione delle opposizioni contro il governatore D'Alfonso che si è astenuto. Ci sono delle frizioni in Leo. Liberi e uguali. Il presidente. Nelle prossime settimane formalizzerò la mia scelta. Ovviamente quella relativa a doppio incarico. e non poteva mancare l'omaggio dell'aula all'ex presidente Giovanni Pace, scomparso proprio qualche giorno fa. Andiamo sulla pagina Abruzzo. Autorità di gestione dei rifiuti. L'Agir. 60 sindaci chiedono di rinviare le nomine. I primi cittadini scrivono ad Alfonso per posticipare l'assemblea del 31 maggio. Di primio faremo di tutto per garantire vera rappresentanza ai comuni. Il ruolo delle regioni tra impegno civico e sostenibilità è stato il tema del convegno che si è svolto all'Aurum di Pescara. E proprio a Pescara entriamo con la pagina dedicata alla tragedia del viadotto, anzi la doppia pagina. Marina e Ludovica insieme per sempre, folla commossa per l'addio all'insegnante e alla sua bambina, l'arcivescovo. Abbiate il coraggio di puntare il dito contro il male, il nemico. Nell'altra pagina, come vediamo, ci sono altre foto che riassumono un pomeriggio davvero straziante, controvento, la canzone che aveva imparato col papà, il successo di Arisa, amato dal povero Ludovica. E allora andiamo a vedere il servizio del nostro Alfredo Primante, proprio sulle esecue di ieri pomeriggio. La chiesa del Cristo Re a Pescara non è riuscita a contenere le centinaia di persone che hanno voluto porgere l'ultimo saluto a Marina e Ludovica, madre e figlia uccise domenica scorsa dal marito e papà Fausto Filippone. Nella chiesa dei Colli di Pescara, ad ufficiare la funzione, è stato l'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha colto sull'altare la bara bianca della piccola Ludovica di appena dieci anni e quella beige di Marina Angrilli, 51 anni, insegnante del liceo scientifico da Vinci di Pescara. Il male le ha rapite, ma noi vogliamo puntare gli occhi sull'eterno bene e vogliamo precare insieme perché trovino la pace eterna, detto il vescovo all'inizio della cerimonia a cui hanno partecipato in rappresentanza della città il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, assieme al presidente del Consiglio Comunale Francesco Pagnanelli. Questa crudezza della morte che ci colpisce sempre e ci colpisce in maniera violenta, ha continuato Valentinetti nella sua omelia, è sempre qualcosa che nega la vita. Il monsignore ha poi ricordato Ludovica, bambina sveglia e intelligente al di sopra della media. Chiaramente grazie all'aiuto dei psicologi in classe si è riusciti un attimino a fare un po' il punto della situazione, cercando di calmerare un pochettino questi bambini perché chiaramente sono sgomenti, sono bambini che non conoscono la cattiveria, i bambini sono anime innocenti. Ecco perché noi la comunità ci ha lasciato così senza parole, sgomenti, perché la bambina e Marina non meritavano tutto questo. Quindi noi comunque come genitori cerchiamo di dare una spiegazione per quello che possiamo fare per cercare di calmare i nostri bambini. In seguito spazio anche al ricordo della madre e professoressa Marina, affidato ai suoi alunni con l'appello affinché donne e bambini non siano mai più vittime di violenza. Amatevi e amateci, magari cerchiamo di amarle un po' di più, un po' meglio se ci riusciamo. Francamente altro, non mi sento proprio, non sono in grado. Andiamo sulle colonne del messaggero perché è stato un pianto infinito per Marina e Ludovica. Continua a veleggiare in paradiso, buon vento, sulla piccola bara bianca, il cartello degli amichetti della scuola nautica. Lacrime ricordi per la moglie e la figlia di Fausto Filippo, le uccise domenica dall'uomo che poi si è suicidato dal viadotto. Anche qui tante immagini come vedete. E anche le parole sono qui per pregare con voi la difficile omelia del Vescovo Tommaso Valentinetti, tanti pensieri di amichetti e alunni. La canzone di Arisa preferita dalla loro compagna intornata alla fine della messa sul sagrato il lancio di palloncini bianchi. Lascia la porta aperta, il piano di morte pronto da venerdì. La richiesta all'inquilino, prova della premeditazione, i nodi ancora aperti, la visita al CIME, il mancato fermo. Leggiamo l'inchiesta. Lascia aperta la porta della Camera perché devo venire a pulire il balcone. Venerdì 18 maggio, due giorni prima della strage, Fausto Filippone telefona a uno degli studenti inquilini dell'appartamento in piazza Roccaraso 18 a Chietiscalo. Da quella stanza si accede al balcone dalla quale domenica a mezzogiorno Fausto ha spinto giù la moglie Marina Angrilli. Tutto lascia ritenere che nel momento in cui parte la chiamata il manager di 49 anni ha già in mente il piano di morte per ammazzare moglie e figlia per poi togliersi la vita. Questa è l'indiscrezione riguardo a questo evento davvero incredibile. Continuiamo nella lettura rimanendo sul messaggero, sul carretto che passa ci sono libri al posto dei gelati. A disposizione di lettori stagionali 1600 titoli raccolti e catalogati dall'associazione Les Pondes. Sarà presente in tutti gli eventi culturali, l'estate colta, le radici di Pescara, sette dolori, quattro secoli di storia riscoperti dalle scuole, del quartiere. Andiamo avanti, l'ASL ritira il bando per le ambulanze, ulteriori tagli alle tariffe, ferme dal 2010, hanno scatenato la protesta delle associazioni che svolgono il soccorso sanitario. L'annuncio di Mancini nell'incontro con 12 enti convenzionati, decisione a termine in attesa dell'eventuale ritocco dei prezzi. Pescara fa scuola, il parcheggio estivo sulla strada parco, Montesilvano, i balneatori vanno alla carica, via Battisti, la polemica, niente multa, sono dal vice sindaco. Vediamo proprio il cartello della discordia, ha comparso su un'autoposta in ZTL, c'è scritto proprio sono dal vice sindaco Blasioli, come se insomma cambiasse qualcosa. Dove una persona è destinata ad andare. Prima di cambiare, vediamo sul messaggero, qui si cambia direttamente provincia, torniamo sul centro per riprendere con la tragedia del viadotto, anche qui l'inchiesta, l'impegno dei magistrati, troveremo la verità. Il procuratore di Chietitesta incontra i familiari di Marina, faremo il possibile, entro due mesi arriveranno gli esiti degli esami tossicologici e le perizie. Sui cellulari, angrilli, i gesti mostruosi di Fausto non c'entrano con l'amore. Il piano mainato, siamo a Pescara, smog, il flop dell'accordo tra sei sindaci, fallisce la firma della Convenzione per la lotta all'inquinamento, il via libera dei consigli comunali non è più arrivato. Sempre a Pescara, la nuova scultura di Toyo Ito costerà di più del calice rotto. La spesa per realizzare un'altra opera è di 1,1 milioni di euro, ma la transazione con la Clax non è stata ancora raggiunta. E poi, decisione del manager Asl Mancini, servizio di soccorso, bloccato il bando, criticato dai volontari. Altre notizie, il MIBE spettacolo di fine anno, ospite Luigi Berlinguerra e poi in alto Madonna del Rosario stasera la commedia sulla guerra, premio Arcolaio d'Argento alle donne d'Abruzzo. A Montesilvano, l'emergenza Pineta, qui abbiamo paura anche di giorno, i residenti di Via Salina e Via Fortore denunciano una presenza continua di spacciatori, non si ferma il degrado al Palaroma e delle foto che evidenziano il degrado di quella zona. In basso Beach Soccer sfida fra quattro nazionali, il 23 e 24 giugno Italia, Francia e Brasile si affronteranno sulla spiaggia libera, cittadina proprio di Montesilvano. Siamo sempre a Montesilvano, apre il ponte Sant'Angelo via Tamigi a senso unico. Gli studenti dello Spaventa hanno scelto il nome del viadotto che dal 30 maggio sarà accessibile alle auto. Viabilità d'emergenza intorno alla strada Lungo Fiume. Spoltore, 4 milioni di euro per pagare i contenziosi, il Comune approva il rendiconto. Andiamo a Francavilla al mare, estate a Sant'Alfonso, tra musica, mercatini, balli e non gastronomia. Francavilla nel calendario dell'associazione Nuova Asterope, 50 appuntamenti a giugno, la festa che dà il via alla stagione. A San Giovanni Teatino, per la cronaca, operaio morto cadendo dal tetto, in due vanno a giudizio. A Penne, assistenza ai disabili, la regione trova i fondi. Penne, l'assessore Sclocco, annuncia lo stanziamento di 50 mila euro. Sbloccata la situazione dei 38 ragazzi, senza attività, alla fondazione Paolo VI. Catignano, oggi l'inaugurazione del polo sanitario. A centro pagina, sempre a Penne, Maremonti, vertice sul futuro della strada. Il presidente della regione ha convocato amministratori locali e ANAS, lavori da appaltare per le elezioni. A Pietraninco del Biondo punta sulla riconferma. Siamo a Chieti. Farmacia comunale in vendita. E allora si apre lo scontro. Chieti denuncia il Movimento 5 Stelle alla Corte dei Conti. Stoppa la manovra per fare cassa. Il sindaco, atto legittimo, grillini dei terroristi politici. A centro pagina, Chieti penalizzata. Pochi ambulatori per cure primarie. La polemica sui servizi nel vecchio ospedale del consigliere comunale Emiliano Vitale. Che vedete in foto, sempre a Chieti. Locali sequestrati. Appello per riaprire. Ricorso dei fratelli di Muzio. Danni alla chiusura di pub e ristorante. 14 dipendenti sono costretti a starsene a casa. A Lanciano paura in centro. Autista della tua preso a calci e pugni. Conducente del bus aggredito da un giovane che pretendeva di farsi portare alla stazione nuova. Guarirà in 15 giorni. A bomba. Poste rapinate. Ma la cassaforte è chiusa. Ride di un giovane con la pistola e il casco da motociclista. Poi la fuga con soli 500 euro. Ortona. Uniamo le cantine per il polo del vino più grande al mondo. Gli Arlori, ex confagricoltura e lo studio di Aquilano. 30 strutture sociali insieme. Meno costi e più ricavi. Almeno questa è l'idea. A Teramo. Morra per aiutare i disabili. Prendo l'avviso di garanzia sul parco con Giorgia Meloni. Il candidato assicura assistenza scolastica piena verso le elezioni in comune. Invece nella sede elettorale di D'Alberto. Rossi. Il paesaggio va protetto. Il governatore della Toscana al dibattito sullo sviluppo urbanistico. In basso l'Adsu aiuta i giovani a fare impresa. L'ente universitario amplia i servizi. Sarà tra gli sportelli di Invitalia per il progetto Resto al Sud. Ma rimanendo sempre a Teramo. Come vedete la Meloni a Teramo. Andiamo sulle colonne della città per benedire Morra. Bagno di folla per la leader di Fratelli d'Italia alla Polifunzionale. Peraltro tra poco proporremo il servizio del nostro nuovo format che parte il primo giugno. Si chiamerà l'appello del candidato e metterà a confronto un esperimento. Questo insieme all'Università di Teramo. I sette candidati sindaci proprio al comune di Teramo. E questo era come vediamo, come vedete alle mie spalle. Questa è la pagina dedicata a Gian Donato Morra. Ieri l'incontro alla sala Polifunzionale con il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Allora andiamo a vedere di che cosa si tratta, che cosa tratterà questo nuovo format. L'appello del candidato. Vediamo. L'appello del candidato è il titolo della trasmissione politica dedicata ai candidati sindaci al comune di Teramo che dal primo giugno in prima serata andrà in onda su TV6. Una formula originale ideata dall'emittente televisiva in collaborazione con l'Università di Teramo e in particolare con le facoltà di Scienze della Comunicazione e Scienze Politiche. Gli studenti dell'Ateneo Teramano hanno infatti analizzato scientificamente programmi e forme comunicative dei sette candidati sindaci teramani e sono già pronti a far loro le pulci sulle proposte ai cittadini di ognuno di loro. I suoi ragazzi si sono appassionati a queste tecniche di comunicazione dei candidati sindaci? Sì, devo dire che la cosa è molto interessante, stanno guardando con occhi diversi quello che vedrebbero in modo più banale e sì, si sono interessati e non è semplice decifrare le campagne elettorali e soprattutto non siamo mai certi che la nostra interpretazione sia poi corrispondente alla volontà di chi ha fatto la campagna elettorale. Però è molto stimolante, è molto interessante, è un bel lavoro. Che interesse c'è stato da parte dei ragazzi su questi programmi dei candidati sindaci? Ma i nostri studenti sia di Scienze Politiche che di Scienze della Comunicazione si sono mostrati molto interessati anche perché è un progetto ed è un'esperienza nuova che credo li porti proprio a confrontare quello che loro studiano quindi tutti anche i programmi degli esami e contenuti delle nostre offerte formative a confrontarle con la realtà politica ed in particolare con una consultazione elettorale importante per eleggere appunto il sindaco di questa città per cui si sono davvero impegnati molto. Ecco, e direi che questo rappresenta anche proprio la capacità di coniugare quello che loro stanno studiando con un'attenzione al cambiamento, quindi alla partecipazione attiva non soltanto degli studenti in quanto studenti ma degli studenti in quanto cittadini. L'appello del candidato su TV6 sarà condotto da Alfredo Primante supportato da altri tre giornalisti che rivolgeranno domande ai candidati sindaci. L'ordine di apparizione dei politici è stato sorteggiato alla presenza del presidente del Corecom Filippo Lucci. La trasmissione durerà 50 minuti, una per ogni candidato sindaco e terminerà con una domanda sorteggiata da un'urna dove gli studenti avranno depositato all'inizio dell'incontro i loro quesiti. Insomma dal primo giugno alle ore 20 l'appello del candidato, un vero e proprio appello universitario per i sette candidati sindaci al comune di Teramo dove c'è però la guerra dei manifesti e restiamo sulla città atto secondo in realtà. Strappati e coperti di disegno sceni i cartelloni delle candidate nel mirino la Marroni e nella sede di Morra c'è Mario Adinolfi. Continuiamo la lettura dei quotidiani tornando sul centro e rimanendo a Teramo perché si parla di concorsi per oltre 50 posti alla ASL pubblicato l'elenco degli ammessi all'orale nella selezione da infermieri assunzioni previste in agosto. Criminalità sono in aumento i divieti di ritorno e ammonimenti in basso alba il comune è in ritardo ed è a rischio il carnevale estivo. torniamo sul messaggero per aprire la pagina aquilana locale messo a ferro e fuoco, giovane picchiato, due arresti, due aquilani di 23 anni presi dalla polizia dopo il raid nel pub rapinato un coetaneo all'origine della follia e lo stato di ebrezza decisivi controlli delle forze dell'ordine e di spalla il risico dirigenti comunali pronti al ricorso al TAR altra notizia, anzi una fotonotizia, una pazza primavera, acquazzone improvviso, disagi e allagamenti questo avvenuto all'altezza del casello, lo vedete, di L'Aquila Ovest insomma il danno è abbastanza ingente soprattutto per chi ci dovrà camminare con le automobili con le maggiore siamo sempre all'Aquila 700 mila euro per i tesori e la cifra necessaria per il restauro delle opere d'arte che si trovano all'interno della basilica prima del sisma Vittorini abbiamo pensato al contenitore ora il contenuto, si sta tentando di inserire le somme nel programma del Cipe e poi da Parigi alla riviera Ligure ecco il braccio di San Giustino in basso il cardinale in visita al comune i lavori sono tutti bloccati, manca il soggetto attuatore andiamo avanti, siamo ad Avezzano, gallese dall'ospedale, dritto in carcere siamo sulla vicenda dei falsi certificati emporio certificati falsi, il primario di psichiatria del CIM dimesso dal nosocomio di Tivoli e trasferito in Scella a Pescara il consigliere regionale di Forza Italia, Iampieri ha espresso solidarietà a Gianluca Alfonsi coinvolto solo marginalmente sempre ad Avezzano, El Foundry ora investe sulla sicurezza in automobili a Sulmona asilo nido, isola felice la rivolta dei genitori altre notizie sempre a Avezzano Eligi, Movimento 5 Stelle, troppi lavori transito inibito a Pescassero lì invece purtroppo dieci negozi abbassano le saracinesche a Chieti il caso farmacia comune, farmacia e privati il caso finisce alla Corte dei Conti c'è l'esposto del Movimento 5 Stelle cedere l'attività sarebbe illecito il sindaco replica è tutto regolare entro settembre potremmo venderla weekend al Marrucino in scena la musica classica in basso l'inchiesta morì cadendo dal tetto della fabbrica in due finiscono sotto processo l'incidente si verificò alla ICO parti civili l'Inail e due familiari di Maurizio Dottavio che vedete in foto anche qui l'apertura della pagina di Lanciano è dedicata all'autista aggredito che finisce all'ospedale il dipendente brutalmente pestato da un ex comunitario a son di pugni e calci alla vecchia stazione centrale un 26enne della costa d'Avorio è salito sul bus fuori servizio e ha preteso di essere trasportato in via Bergamo rapina alle poste di bomba ma il bottino è magro qui sale di qualche euro diventano mille comunque non evidentemente quello che il rapinatore si aspettava in basso T.E. Electronics nuovi macchinari e più soldi colpo di scena il cambio del responsabile ora sarà il manager che controlla l'area del nord Europa anche qui torniamo sulle vicende delle elezioni a Teramo oscenità sulle candidate Meloni atto da vigliacchi imbrattati con disegni volgari i manifesti delle donne in corsa alle amministrative in civiltà che addolora dice Castelli delle pari opportunità della provincia e ci sono proprio le parole di Giorgia Meloni che dice è successo anche a me bisogna tenere duro e andare avanti dice la leader di Fratelli d'Italia alleanza nazionale in città per sostenere la candidatura di Giandonato Mora la poltrona di primo cittadino in basso brigadiere accusato di concussione a giugno ci sarà la sentenza andiamo adesso alle pagine dello sport per vedere che cosa accade nel Pescara che sarebbe in vendita e allora pillone in stand by Sebastiani tratta la cessione della società e allunga i tempi per il rinnovo del mister stop di una settimana per permettere ad eventuali acquirenti di farsi avanti leggiamo Sebastiani tratta per la cessione del club e allunga i tempi per il rinnovo di pillone la firma del tecnico veneto alla fine arriverà ma non nelle prossime ore il presidente vuole aspettare ancora una settimana per permettere ad eventuali acquirenti di farsi avanti ufficialmente e vedremo insomma se poi arriverà questa fumata bianca sulla cessione della società oppure oppure no non ci sono acquirenti ma Pettinari ha anche egli qualche dubbio se restare oppure no vado non resto dice Pettinari sul proprio futuro Pettinari premiato come miglior biancazzurro di questa stagione non particolarmente fortunata noi lo andiamo ad ascoltare infatti per me è veramente un onore ricevere questo premio poi mi hai detto tu alcuni poi me ne sono stati altri come Insigne e così quindi appunto è un onore sono contentissimo soprattutto perché è arrivato dopo un anno difficile dove abbiamo raggiunto una salvezza diciamo sofferta però è andato tutto bene alla fine Nel ripercorrere la stagione tu la scorsa estate nelle girarchie di Zeeman sembrava stessi dietro perché si puntava molto su Gans cos'è successo poi cos'è scattato in te sì io sono arrivato qui in ritiro come hai detto tu diciamo non come prima scelta c'è da dirlo però secondo me ho disputato un ottimo ritiro mi sono allenato al massimo delle mie possibilità e poi devo ringraziare il mister che mi ha dato fiducia che direi che è stata anche ripagata soprattutto nella prima parte di stagione tu hai segnato soprattutto con lui hai inciso l'addio di Zeeman sul tuo rendimento o no? dal punto di vista realizzativo sicuramente sì perché il mister Zeeman ti chiede un tipo di lavoro diverso agli attaccanti cioè con lui devi solo finalizzare l'azione sei un po' meno partecipe del gioco dove devono essere più centrocampisti magari gli esterni a creare il gioco e la prima punta devi finalizzare e poi vabbè cancellerei la parentesi la piccola parentesi con Epifani e poi è arrivato Pilon che ha fatto secondo me un ottimo lavoro però mi ha chiesto magari cose diverse e il mio modo di giocare è leggermente cambiato magari a volte mi trovo un po' più lontano dalla porta però penso di aver fatto tutto quello che mi ha chiesto anche il mister Pilon lui ci ha preso in un momento veramente difficile dove eravamo giù con la testa il morale era basso e non vedevamo insomma una via di uscita non era facile lui è stato bravo perché già dalla prima settimana siamo andati a fare una partita fuori casa a Palermo dove siamo andati senza paura abbiamo fatto un'ottima prestazione e meritavamo anche di vincere e poi c'è da dire che abbiamo perso solo due partite che abbiamo giocato con un uomo in meno in pratica dall'inizio del primo tempo quindi i meriti direi che sono in gran parte i suoi le prospettive di Pettinari a questo punto? no adesso beh a parte che è appena finita la stagione e ancora sono ancora presto esattamente però io devo dire che qua a Pescara mi sono trovato benissimo anche nella mia prima parentesi dove magari ho giocato un po' di meno e adesso è presto per vedere il futuro vediamo vediamo nei prossimi giorni ma i mancati playoff sono stati un fallimento per Stefano Pettinari sì o no? secondo me sì perché in estate diciamo almeno la voglia e le prospettive erano quelle quindi l'obiettivo era i playoff e come vedete Pettinari è un bomber dal futuro incerto anche per il centro la punta vorrei restare ma bisogna prolungare il contratto vedremo se rimarrà in bianco azzurro Stefano Pettinari chi rimarrà in bianco azzurro è Giorgio Repetto c'è l'intesa accordo triennale in arrivo 16 luglio scatterà la nuova stagione con il ritiro di Palena la sentenza pari penalizzato cittadella al sesto posto andiamo avanti andiamo in casa Francavilla resta spacca e c'è Valenti nel mirino serie di il patron del Giulianova Bartolini smentisce la cessione della società vado avanti il tecnico uno tra Di Fabio e Mecomonaco dipende dai programmi in alto per il Teramo Di Battista potrebbe entrare nel Teramo il Monza va su Ilari Virtus Lanciano lunedì il Tribunale decide sul concordato dei Maio Torti voglio un altro paterno domani alla Dispoli senza Albertazzi e con un 1-2 da ribaltare Montagna il San Nicolò Salvezza dà applausi allenatore soddisfatto ripagata la fiducia del presidente Di Giovanni e Petronio è un esempio per altre notizie volle B1 donne c'è il mito Aguero ma l'altino crede nella rivincita domani ore 18 il ritorno della semifinale contro Sassuolo Montechiarini lei è una grande però possiamo vincere e poi l'Abruzzo va all'assalto del trofeo dei Tre Mari fine settimana con il torneo di pallavolo giovanile nel vastese ecco i convocati di Corso e Lanci torniamo sul messaggero perché all'Aquila Ius fa sul serio salvo l'Aquila vertice fiume con Gulluni partiamo poi closing a novembre fastidio per la trattativa parallela voglio giocare a carte scoperte vedremo se ci sarà effettivamente il salvataggio dell'Aquila di spalla Teramo arriva un nuovo socio ecco Di Battista ha trovato l'accordo con uno dei titolari dell'agenzia assicurativa Grupa Ma dall'altra parte Avezzano l'allenatore Giampaolo resta con noi al 90% Federico Giampaolo resta con noi queste le parole del presidente Gianni Paris in basso Basket Serie B il teatino Salvemini è il top allenatore della categoria con questa notizia noi chiudiamo mattino 6 che torna lunedì ovviamente alle ore 8 puntuale e vi ricordo alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale con tutte le notizie della nostra regione è tutto buona giornata grazie a tutti grazie a tutti